Camicie stese ad asciugare, libri ricoperti di fango, due brandine su cui riposare e un sorriso che aiuta a superare questo drammatico momento, forse più di tutto il resto. Sono gli scatti che arrivano dal bolognese che raccontano l'impegno dei volontari della misericordia di Arezzo in aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. In tutto sono un'ottantina i volontari toscani, tra cui anche numerosi aretini, inseriti nella colonna nazionale delle misericordie attivate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile a lavoro ogni giorno, sia al centro di coordinamento emergenze di Pistoia che nei territori colpiti. Nell'attività di soccorso sono state impiegate sia squadre con piccole idrovore che autisti e logisti qualificati nell'impegno di utilizzare macchinari capaci di pompare un milione di litri di acqua all'ora fino a un chilometro di distanza. Ma più di tutto questi volontari portano nelle zone colpite dall'alluvione la loro umanità, i loro sorrisi, il volto più bello della nostra Italia.